Corso Vittorio Emanuele porta ancora i segni della notte brava di cui sono accusati due ragazzi giovanissimi, un italiano di 20 anni, un marocchino di soli 18 anni, sono infatti accusati di aver pesantemente danneggiato le fioriere ed altri oggetti che si trovano lungo tutto Corso Vittorio Emanuele. Sembra che questi due ragazzi fossero ubriachi e che dopo essere stati cacciati da alcune discoteche e alcuni locali della città abbiano sfogato la loro rabbia proprio su tutto quanto incrociavano lungo Corso Vittorio Emanuele. Sono stati fermati dalle volanti della polizia su segnalazione di alcuni passanti e alcuni cittadini, sono stati portati in questura denunciati anche se entrambi negano ogni addebito. I commercianti in particolare del Corso sono davvero esasperati. Il sabato e la domenica mattina servono spesso per fare la conta dei danni provocati dai ragazzi che animano la vita notturna in centro storico ma che spesso, complice l'alto tasso alcolico, si rendono protagonisti di comportamenti davvero incivili che vanno dallo sfrecciare ad alta velocità in strade pedonali o contromano fino alle devastazioni a cui si è assistito sabato. Come potete vedere mi sono state spezzate le piante che io dovrò buttare perché sono piante finte quindi dentro cementate, costano 250 euro l'una per cui visto che questi ragazzi li hanno presi mi è stato riferito, speriamo che qualcuno o loro o i genitori paghino i nostri danni. Farete denuncia? L'abbiamo già fatta domenica mattina subito in via Beverora dai carabinieri e purtroppo capita spesso quindi secondo me il comune dovrebbe pensare di porre il rimedio, cercare di tutelarci di più. Noi già nei mesi scorsi abbiamo avuto problemi con le lampadine che si hanno strappato dal gazebo, con le fiori rotte, bottiglie rotte in mezzo alla strada e sono mesi che queste cose vanno avanti quindi non c'è sicurezza. Se fossero stati i miei figli li avrei fatto mettere con la scopa paletta e pulire tutto tutto tutto. Non è la prima volta che accadono fatti del genere? Sì ogni tanto qua ci sono sempre dei disastri, sempre. Quando apri la mattina non sai quello che trovi e quindi sarei per la linea durissima, ti dico anche se fossero i miei figli. Non solo i negozianti, anche il comune starebbe pensando ad intraprendere azioni legali contro i responsabili degli atti vandalici. Evidentemente le multe in piazza Cavalli contro le vetture in sosta selvaggia tardasera non bastano più per riportare la situazione sotto controllo.